No, Cresi 2 no, sto facendo il primo Ah, l'ho ancora fatto il primo Il primo ho fatto 82 Madonna Ah, giusto, sì No, anche 90 qualcosa Davvero? Mi ricordo di sì che hai fatto Ah, no, 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 ho fatto 91 Sì, 91 Peggio, peggio mi sento Ti chiedo, deve rimuovere Mi ricordare di aver fatto 80 anni Sì, effettivamente Porta quel cazzo mi dico un po' su maledetto E' una maledizione, sai Cioè a me piace tanto E' un nuovo ma Nessuno lo fa bene Eh, quello là è brutto Lo serve male Però tutti lo fanno la cazzo Cosa sta succedendo Forge poi Arrivo subito, raga Oh, spiega, non c'è Oh, io Ok, non sia la roba, sei Finito Finito Bravo Finito Destiny of Birth Destiny of Birth, sì Grazie che te l'avevi ricordato Vabbè, bello, non mi piace Sì, quasi quasi Sì, è abbastanza Sì, perché non è in leaderboard Incredible Ah, no, scherzone Due anni fa addirittura Solo 126 dettati Ciao 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 Ciao